Un esempio di EDS non pianificabile potrebbe essere l'infortunio. Stiamo parlando del nodo infortuni e malattie professionali, il quale, proprio per sua natura, non è prevedibile. Abbiamo al suo interno vari EDS con i relativi adempimenti. Per ciascuno troviamo le diverse attività che risultano essere un mero promemoria delle comunicazioni da fare. Risultano infatti prive di modelli. Per questi adempimenti non è possibile preventivamente associare le risorse. E per il medesimo motivo non è possibile pianificare l'adempimento, ma solo eseguirlo nei momenti in cui si verifica l'evento. Le comunicazioni avvengono ai vari enti tutte attraverso il modello 4, che viene fornito come allegato dell'adempimento. Per visualizzarlo occorre selezionarlo e cliccare sul bottone Visualizza allegato selezionato. Pertanto, nell'eventualità dovessimo gestire le comunicazioni da effettuare a seguito di un infortunio, occorre eseguirlo direttamente cliccando sul bottone Esegui adempimento. Nel dialog Esegui adempimento possiamo ora procedere all'associazione delle risorse. Cliccando sul bottone Aggiungi risorsa, ci viene mostrato l'elenco delle risorse umane, da dove, dopo aver selezionato la risorsa o le risorse coinvolte, bisogna cliccare su OK. Definite le risorse e la data di avvio Dando l'OK veniamo portati direttamente nell'editor adempimenti nella pagina Dettaglio dove è stato inserito l'adempimento. Per le attività procederemo come già visto, avviandole e confermando i dati relativi ai diversi EDS. A questo punto, differentemente da prima, dove abbiamo prodotto dei modelli, andremo invece a produrre ed allegare il modello 4. Portandoci sull'adempimento, sulla toolbar è possibile richiamare il modello cliccando sul bottone Approfondimenti e riferimenti normativi. Nel dialog Informazioni abbiamo tra gli allegati il modello INAIL per la denuncia di infortunio. Dopo averlo selezionato, cliccando il bottone Visualizza allegato oppure effettuando il doppio clic del mouse sul nodo, ci viene aperto all'interno del reader presente sul PC il modello INAIL da dove possiamo stamparlo o gestirlo e compilarlo con il nostro reader. Nel primo caso, dopo averlo stampato, andrà dapprima compilato manualmente e successivamente, dopo averlo scannerizzato con opportuni strumenti, sarà possibile allegarlo come immagine. Mentre lo allegheremo come PDF, se lo abbiamo gestito e compilato con un reader. Al fine di allegare il documento all'attività, sia nell'uno che nell'altro caso, occorre, dopo aver selezionato quest'ultima, cliccare il bottone Aggiungi allegato. Nella successiva finestra, andrà dapprima selezionata la cartella al cui interno è stato archiviato il documento e di seguito indicato il formato, se PDF o JPEG. Selezionato il documento, dandolo OK, viene allegato all'attività, da dove in qualsiasi momento potrà essere aperto e stampato. Svolta l'attività, possiamo chiuderla e procedere allo stesso modo con le altre, sino a concludere anche l'adempimento, avendo svolte le attività che lo compongono. Grazie. Grazie. Grazie.